Dalla devastazione alla rinascita. Era il 4 novembre 1966 quando l'Arno, il Bisenzio, l'Ombrone e il Serchio ruppero gli argini devastando intere città toscane. Sono passati 50 anni e Firenze si prepara un fine settimana di eventi, tra i quali quelli promossi dal Consiglio regionale e presentati dal presidente Eugenio Gianni. Il 5 novembre saranno conferite due onorificenze in memoria dell'allora sindaco Piero Bargellini e del cantautore Riccardo Marasco, che dedicò al tragico evento una delle sue canzoni. Domenica saranno inaugurate due mostre dedicate al ricordo dell'alluvione e al ruolo della protezione civile, con immagini, articoli di giornale e documenti dell'epoca e poi a Palazzo Strozzi un incontro sul tema della sicurezza idraulica in Toscana. Al di là delle celebrazioni resta il fatto che 50 anni dopo alcuni lavori sono stati fatti, ma l'Arno non è ancora in sicurezza. Noi stiamo adoperandoci e proprio in questi giorni deve essere completata la prima delle vasche di esontazione controllata a Figline, ne seguiranno altre. Devono essere ancora fatti lavori per alzare le dighe di leva nella penna. Questa ricorrenza deve servire e noi lo faremo proprio il 6 di novembre nell'assemblea al Teatro Verdi a Firenze per far capire come il cronoprogramma per mettere in sicurezza all'Arno è una delle priorità di intervento per gli enti locali e per lo Stato verso la Toscana. Alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell'alluvione parteciperà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.